Il tempo è bruttissimo e c'è un vento caldo. Roberto, dimmi che è successo? La cima l'abbiamo fatta. Ma tu non c'hai nemmeno i guanti. No, ma i guanti a me non mi danno fastidio. Il problema è... Ce lo faccio tosto a scrivere questa cima. È un problema di vento. No, è tutto aperto, è di cresta. No, è tutto aperto. Lui ne sa che sto scindarello. Ti dice male, Emilio? Oggi ci voleva il bosco. Proviamo a fare una scelta. E poi... Proviamo qua... Andiamo così a tanocchiare. Lì a Fonte Metica, dici? No, qui, a Fonte Metica. Ah, no, no. Facciamo un giretto di ispezione e vediamo se... Ah, così. Vediamo un momento se è cosa. Però se c'è vento così io penso che... No, ma non c'è... Ma tanto non... Ma non c'è... Ma te l'avevo detto che mangi troppo, guarda. Ti scoppia anche quello. Ti scoppia anche quello. Ti scoppia anche quello. Un anno di cose. Guarda che vento. Guarda i lati di partichero. Voglio dire soltanto a quello. Emilio, ma com'è che non è intuosibile? Ehi, 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 ehi. Quante stime che sempre stiamo... Sono tre mila. I tre mila stanno... Sono finiti. Non si è mai... Non si è assoluto. Perché anche lui... Lui vuol fare il filmini dal burro di neve. Quello in cui siamo passati. Ma anche altro, non c'è questa montagna metà? Ma anche gli altri, coraggiosamente, non ci si sono presunti. C'è un'altra macchina che si giovia. Ah sì? Si, si è dietrognato. C'è un'altra macchina che si giovia.